Mi chiamo Pier Giuseppe Grassi, abituale ecco e a fine settimana tolgo i miei vizi venendo qui a Vendronio, all'aria aperta, a coltivare qualche cosa per la famiglia e per gli amici. Siamo all'Erba Brusca che è un piccolo ristorante nel sud di Milano. Noi siamo prima di tutto un ristorante che comunque serve al pranzo e cena e seguiamo un po' la nostra piccola filosofia che sarebbe di usare nel massimo possibile prodotti di stagione e di produttori locali. Questo è Piorto, è un laboratorio per bambini, costruisci il tuo orto e portatelo a casa. Qual è il suo livello di esperienza come ortista, principante, intermedio o esperto? Come? Qual è il suo livello di esperienza come ortista, come agricoltore, cioè come coltivatore? Ho fatto 25 anni e coltivato a rosso. Esperto allora. Molto, molto popolare, come dicevi, e c'è una lista di esperienza di molti anni per ottenere un allotment, ma quello che abbiamo fatto è che abbiamo un piatto flat e abbiamo un allotment sul nostro piatto con boxe. E' la prima volta che abbiamo fatto, e questo anno abbiamo un salato molto bello, e un salato, e un tomatone, e un piatto, e un piatto, e un fruot, e anche un piccolo applettre e un piccolo figo. E' un piccolo figo. E' un piccolo più grande.